Buongiorno e buona domenica ragazzi, buongiorno e buona domenica da parte del Genius Pop che alla fine di questo video si esibirà al massimo del sex appeal, cioè in pigiama, a tardanotte, saranno state le 3-4 di notte quando ho girato questo filmato, ed ero diciamo in una miss, mia cara miss, in una tenuta veramente sexy, una roba. Adoro le storie da Dallas Bears Club, Sinisa Mihailovic, Docet, amo anche le Stranger Things miracolistiche, quanto è bella, diciamocelo quanto è buona, ah sì sì, quanti anni ha 21? Ah sì 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 sì, andiamo avanti, dai 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 dai, tanto adesso udirete forse, perché dovevo portare il cellulare in cucina invece, vabbè sto facendo la registrazione qui, ho lasciato il cellulare, sulla scrivania sentirete qualche notifica, sì abbiamo tutti noi, Felsinei, con gli striscioni sventolanti del Bologna Football Club, ovvero la squadra di Serie A del capoluogo Emiliano Romagnolo, ha preso della spiacevolissima notizia comunicataci in maniera vivissima e umanissima da Sinisa, scritto così, senza accenti serbi e strani, Sinisa Mihailovic. Ecco, vi ricordate il grande Lino Banfi dell'allenatore del, no, non del pallone, l'allenatore nel pallone, Oronzo Canà, allenatore di Serie A, Maracanà, ecco, e a proposito di Lino Banfi, ci fu anche una piccola, diciamo, serie televisiva simil fiction, Sono l'inviato specialissimo, e sì sì mi simissimo, sono l'inviato specialissimo, Sinisa invece, come ho detto, è stato umanissimo, ero in macchina al che accesi la radio, e nel di, appena sorto dell'alba estiva di Bologna, sì, la mia città di nascita, nel dialetto locale così chiamata, ha preso una notizia, ha preso una notizia, è stato l'aereo che è passato, mi ha distratto, ha preso una notizia già di per sé poco promettente, assai poco entusiastica. Intanto arriva la pubblicità proprio di Stranger Things, no, no, quando si dice che il mattino ha l'oro in bocca, è già, non è sempre vero, non è sempre vero. Infatti ascolto il comunicatore di Fonico, che dopo le notizie meteorologiche della luvionata Pescara ed intorno, le notizie radio sono così, a Pescara, a Quazzone, sfollate centomila persone, centomila tutta la regione, Pescara ed intorno, all'improvviso mi spiazza e lascia internet, mi spiazza come un centravanti quando il portiere si aspetta la palla da una parte e lui gliela ficca da un'altra, e sulle palle ficcanti adesso è. Ovvero la news per la quale nel pomeriggio, il giorno odienno, l'allenatore del blasonato Bologna, sette scudetti e una, due, mitropa, cos'è la mitropa cup? Il Bologna non ha mai vinto nella Coppa Wave, nella Coppa delle Coppe, ha vinto lo scudetto ma non ha mai vinto la Coppa di Campione. Comunque era la squadra che tutto il mondo tremare faceva, si diceva il Bologna è la squadra che tutto il mondo tremare fa, ma mica tanto, perché squadra quest'anno salvatasi, non per il rotto della cuffia, ma dalla retrocessione con ammirevole, combattivo e grintoso onore. Comunicherà in conferenza, ritorniamo a Sinisa, comunicherà in conferenza stampa ufficiale lo stato della sua malattia, infanzianza, malattia. Dunque, attendo la diretta della conferenza e poi me la rivedo su YouTube sul canale del Bologna, potevano un po' però alzare l'audio, è un po' basino. Walter Sabatini presenta a Sinisa, ma chi è Sabatini? Il padre con una B in più nel cognome di quella figa immensa che fu Gabriella Sabatini, con due B. B, 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 la B di Bologna e la B di Bona. Ah, Gabriella Sabatini, in questo sabato forse è sabatico, rimembra i tempi miei puberali nei quali patì godibilmente tutto il mio gomito da tenista. Quando ho spaparanzato sul divano, ammiravo tutto il grande slam dei miei giochi balistici nell'adorare le fenomenali gambe di Gabriella. Gambe da competizione mondiale, gambe belle quasi quanto quelle che furono della sua omonima. Gabriella, sì, Magolia. Io dinanzi a loro ero Davide. Io ho avuto una storia di bullismi massacranti, tipo nella valla di Hülla, il film con Charlie Jones e Charlotte Strong. Ah, sì. E io dinanzi a loro ero Davide, un nano onanistico che giocava di rovescio e soprattutto di dritto dinanzi a queste gigantesche femmine, per cui avrei partecipato sudando sette camicia a Roland Garros, direttissima. Sì, avrei preso tutte e due le Gabrielle, tanto belle, Gabrielle tanto belle, e sulla terra rossa del mio desiderio caldissimo come il sole a mezzogiorno del certo più cremisi, 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 comunque ero cremoso, diciamocelo. Me ne sarei sinceramente sbattute con tanto di racchetta d'alluminio. Quanta crema, appunto, avrei spalmato su queste due donne verso le quali ero attratto di focosa biochimica a Roland Garros, come il fan Ah, vai, vai, più sfegatato e in foia. Di mio, diciamocela. Ero iperarrapato. Che la Sabatini vincesse, sinceramente, me ne sbattevo il cazzo. Ero un ragazzo già emotivamente caliento, diciamo, no, abbattuto, che alleviava le continue partite perse con le ragazze mie coetane, da me trassognate spesso poco l'ambite, eppure ambitissime e soprattutto fantasticate senza abiti, in paternity break point della vita quotidiana a cui offrivo scarsi punti vincendi e ficcanti. Oggi mi sono trasformato in una specie di incrocio fra Keanu Reeves, Johnny Hutter e Patrick Schweitz di Point Break. Eh sì, adesso facciamo in serie. Anche Patrick morì di cancro. E sì, ne rimasi molto molto dispiaciuto. Come nell'aver appreso questa notizia di Sinisa. Adesso facciamo gli scherzosi con gli artici, però la notizia è tragica. Io spesso mi denudo scimmiesco come Anthony Cadiz, dei Red Hot Chili Peppers. California, appunto, fornication, fornication, la fornicazione. Sì, vi ricordate il suo cameo in questo suscitato storico e polavoro di Catherine Bigelow? Catherine Bigelow? Un'altra donna con gambe all'epoca davvero Red Hot, che potevano battersele, sì. Con le cosce di Jamie Lee Curtis, di True Lies, Jamie Lee Curtis. La protagonista di un altro ottimo film di Catherine, ovvero Blue Steel, Bersaglio Mortale. E come poc'anzi detto, splendido interpreta, assieme ad Arnold Terminator Schwarzenegger, di uno degli spogliarelli più eccitanti al contempo ridicoli della storia. Uno spogliarello apoteotico. Capace di far affondare a modo il Titanic qualsiasi uomo, ma anche megalobano come James Cameron. Questo è talmente megalobano che ha perso di vista proprio tutto, e soprattutto ha perso di vista quello. Eh sì, sì, sì. Eh sì. Eh sì. L'abbiamo perso? Eh sì. Sì, vedi una donna così che arqua il bacino, che sinuosa e serpentesca, sculetta, velata soltanto da un piccolissimo reggiseno che sta su astento, coperta minimamente soltanto da dei mini, per forza minimamente, slip nerissimi e piccanti, non vuoi? Se sei interosessuale, fa altro che colare a picco. Uh, che caldo. L'unica donna bollente che riesce a affreddarti come un enorme iceberg. Uh, uh, uh. Cameron è una bel coglione, chezzo. Altro che, io cazzo, la Bigglove, eh, cazzo, eh, cazzo, me la sarei tenuta strettissima, è come no, è come no. Uomini, ci giochiamo le palle, che ho ragione. Io, invece, James, a quanto pare, non Jamie, non Jamie. Jamie? Ah, con Jamie Lee Curtis, eh, sì, sì, eh, Jamie, Jamie, ti, eh. Povero, eh, no, no, allora dove siamo? Povero, no. Invece, James, a quanto pare, ama di più girare i secoli apocryphi di Pocahontas, cioè Avatar e i suoi seguiti bambineschi, c'è stata proprio una regrazione bandile in questo James. Su via uomini, non fate i perbenisti, i puritani, i moralisti, in particolare, la specie, la specie, la specie. Gli indiani, comunque, sono una razza, sì, 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 insomma, sono una razza. Balla coi lupi, eh, sì, sì, balla coi lupi. Eh, dinanzi alle due Gabrielle, a Jamie Lee e, dirimpetto, a Catherine, va sua come a prua poppa ogni albero di mezzana, sì, sì. Non fatemi la parte dei depressi in fase down, perché non vi crede nessuno, eh, tantomeno la vostra pelle rossa, peraltro brutta in modo disumano, sapete perché è pelle rossa, non perché si è indiana, perché va in spiaggia a Riccione e prende il sole, eh, prende la cotta, ma quella, quella ha mai avuto la cotta per nessuno, diciamo, cioè quella è proprio brutta, è racchia, è frigida, è asociale, e ce l'ha pure come maschi, eh, sì, è una femminista nel movimento Me Too, Me Too, Me Too, Me Too, Me Turbi, no. Se abbiamo perso James in The Abyss, insomma, nell'abisso dei suoi mille cervellotici, alliance, da multiforme esaltate, questo, come si dice, questo ha perso la testa, ma non ha perso la testa, come dicono nell'episodio 7 di Stranger Things, per, insomma, per una tuona, questa pesa adesso è bassa, eh, ma sì, visto che è estate, andate a pescarlo dalla sua villa con piscina, a proposito, andate a pescarlo, forse sta a Pescara, sì, sì, a Pescara, eh sì, portatelo a largo e affogatelo, come uomo e come regista fa oramai acqua da tutte le parti, eh, sì, e ricordatevi che il suo primo lungometraggio, Piragna Paura, è quasi più brutto di Sharknado, qui c'è solo uno squalo, mie squallidi, eh, ascolta anche il squalo, scusi, e non è quello di Spielberg, bensì il sottoscritto, uomo che sovente se la squaglia, sebbene qualche volta a talune, a talune lo scoli, lo scoli, eh, c'è il rischio di prendere lo scolo, però, eh, sì, da quando lasciai la scuola, la scuola, in adolescenziale età, poi la ripresi, io la, ma a me, a me, chi me prende, nessuno me prende, a che a me, a me chi mi prende, a me chi prende, chi prende, mi prende, ah, mi prende il caldo, la gente pensò che soffrissi di qualche male invietoso e curabile, ma perché non l'ho portato in curva, non è che si era schizofrenica, forse soffro da fobia sociale, o forse era buongiorno, ecco, e lui era il tanto calcino a collo a questa ragazza che, cosa fa, si fa la sega dalla mattina alla sera, e dice, no, va bene, ecco, da allora quanti strange days che passai, ah, divenni come Lenny Nero, soprattutto fui annerito, eh sì, ma è tutto passato, in vero non è che vivessi molto di giorno, ero un fanatico di Warriors, dei guerrieri della notte, le mie, appunto, erano notti assai poco dell'altro sesso ingorde, in quanto essere metafisico, ma è Franco Battiato, celebre autore, dell'intramontabile, appunto, strani giorni, appunto, appunto e appuntato, eh sì, questa gente mi puntava e voleva fare come gli appuntati, non va bene, come i carabinieri, diceva, uè Pinocchio, ti vengo a prendere, eh, sì, sì, sì. Adesso, a parte gli scherzi, Sinisa mi ha commosso, ho pure lasciato un commento molto sentito sotto al video della sua conferenza, queste le mie testuali parole. E torniamo a Lino Banfi, non dell'allenatore nel pallone, né dell'inviato specialissimo, quello del bar dello sport, eh sì, perché parliamo di calcio al bar dello sport, e c'è Gerica là, parola, parola, questo però non dice una parola, eh no, anch'io non dicevo una parola, mi ero chiuso nel mutismo. Ecco, queste le mie testuali parole, parola, parola, parola. L'audio è molto basso però, eh, bisogna alzare il volume, come ho già detto, delle casse per riuscire a sentire bene, forza, Sinisa, non mollare. Siamo seri adesso? La leucemia purtroppo è una malattia molto grave, quindi bisogna essere ottimistici, sì, ma anche realisti. Non facciamoci travolgere dal pessimismo a proposito di Dallas Bears Club, no, più che altro di Matthew McConaughey, come il True Detective, che è un pessimista realista, dobbiamo appunto essere realisti, più che pessimisti, realisti, basta. Varie persone di mia conoscenza non sono riuscite a sconfiggerla, ma tu sei più forte, Sinisa, ce la farai. E hai avuto, come sempre, un enorme coraggio a rivelare la tua malattia. Mi stupisce anche la tua calma con la quale, col tuo impeccabile stile. Hai confessato, senza paura, la verità. Sei un grande, vincerai. Allora, come detto, allora, io non sono disfattista né pessimista. Come sopra scritto, e dettovi, sono un realista. Allora, ci sono vari stadi, non mi riferisco a quelli comunali, come Renato Dall'Ara, dove gioca il Bologno, della leucemia, dove gioca. Non si sa per quanto giocherà, perché, saputo, il presidente vuole spostare lo stadio, costruirlo da un'altra parte. Torniamo alla leucemia. Può essere di diverso tipo. Lo dice anche il medico nella conferenza. Se è vero che la leucemia di Sinisa è in fase acute e aggressiva, sarò tristemente sincero. La vedo molto dura. È una delle peggiori malattie tumorali. Il suo clinico decorso è raramente reversibile, battibile, nonostante tutte le terapie d'urto possibili. Chiaro? Terapia d'urto. A me, molta gente stupida pensava che mi sarei curato dalle mie chiusure, facendo come Jack Nicholson di terapia d'urto. No, non funziona così. Ovviamente, non equivocatemi, tifo, tifo per Sinisa. Ma ripeto, è una malattia che colpisce le cellule del sangue e si sviluppa in modo osseo, cioè colpisce le ossa. Ecco, è chiaro? Scusate se mi permetto questo gioco di parole. Non vorrei essere frainteso, come sempre. È insomma uno zoccolo durissimo, tostissimo. Sinisa ce la fa. Come ce la fece il grande Matthew McConaughey, appunto, di Dallas Buyers Club contro l'AIDS. In realtà, a lui fu diagnosticato l'HIV, che poi degenera. Walter Sabatini è un DS, dirigente sportivo DS. Ho visto molti ragazzi ancora in forza, in forza, crollare, forza, 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 ancora in forza e crollare di fronte alle mille difficoltà economiche, cosicché si sono affidati all'ADS. A, maiuscola, D minuscola, S maiuscola. ADS, non è l'AIDS. ADS è la sigla dell'amministratore di sostegno. Quando ti affidi all'amministratore di sostegno che gestisce già i pochi soldi che hai, la vedo molto dura. Ho visto anche tanti idioti insostenibili che non conoscono nemmeno l'ABC e vogliono dare lezioni di vita a moi perché mi reputano un pirla e un idiota. Mi dicono, ma tu non soffri di niente, ma quale depressione, ti darei un calcio nel culo, povero coglione. Che ignoranza. Ora, io non ho niente da nascondere, al massimo posso celare tre barrette di cioccolato nel frigorifero perché se dovesse venire domani a pranzo a mio cugino so che se le papperebbe a sbaffo. Falto, mio cugino mangia sempre, ma è sempre più magro, ma come fa? Fa come me, forse sto dimagrendo, poi vedrete nel video. Come molti di voi sapranno, a me fu fatta una diagnosi psichiatrica totalmente erronea. Erronea, di questo ne ho già discusso. Non sto scherzando, è così. Un errore diagnostico, un orrore di proporzioni, un errore è un orrore di proporzioni cosmiche. Prendiamola a ridere, sono un tragicomico. E questo scritto è malinconico e contemporaneamente sdrammatizzante, è la miglior voodiale. Per dimostrare che avevo ragione io, dovetti lottare molto, molto, molto di più di Matthew McConaughey. Quello è un film, questa è la realtà. Nei film si romanza, si è a geografici, e no, no, anche geografici a volte. E io ho dovuto, uff, che culo, che mi sono fatto, altro che culo. Secondo voi, ecco, il punto è questo, avevo ragione io? Avevo ragione io? È certo, avevate dei dubbi. Io sono uno poveri stronzi, chiamerei Training Day al Festival di Venezia quando voi ancora giuccevate il seno di vostra madre. E vi garantisco che non era fantastico con quello di Uma Thurma. Dicono, eh, ma tu sei fan di De Niro, ma De Niro, eh, guardate De Niro nello sbirro, il boss e la bionda, che fra l'altro in quel periodo stava con Uma Thurman, eh sì. C'è tutta una leccata al seno di Uma Thurman, uff, eeeh. Training Day uscì nel 2001. E in quel periodo, Uma, vistosamente sovrappeso in passerella, sebbene sempre superpassera, anzi, forse un po' più grassa, aveva ancora le tettone più pronunciate, era incinta di Ethan Hawke. Ma stavano aspettando Maya? Non so, anzi no. Maya Hawke è nata l'8 luglio del 1998, Comunque Ethan e Uma stavano aspettando solo di finire, di fermare gli autografi, per rompersi i coglioni, a vedere in sala grande, un film del quale, essendo Ethan il co-protagonista, certamente avevano già visto le integrali, le integrali, anteprime, mandate loro da Antoine Foucault, 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 non stai bene? Mangia le quelle di Foucault, 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 è della Warner Bros, Maya Hawke, e adesso una delle protagoniste di Stranger Things 3, la scena nell'episodio 7, di lei, Stevie, Stevie, e io come mi chiamo? Scusi, sono io quello lì, nel bagno della multisala voi stanno proiettando Back to the Future, Ritorno al Futuro, è veramente iper romantico, non sto scherzando, mi ha commosso, lui è bello, lei di più, mi ha commosso, così come mi ha commosso Sinisa, quindi ora vi levate tutti dal cazzo, sinceramente, ci siamo capiti, perché non sapete nulla della mia vita, e non vi permetterò mai più, e non vi permetterò mai più di fare i porcellini, comunque con Maya, con Maya, un po' Maya lì, non lo sarei, avventurata, quindi è già il maggioreno, quindi a questo sguardo è bellissimo, mi piace, da cui il detto, Maya dire mai, ora vado a mangiare del mais, 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 detto ciò, finisco con questa, Maya, avventurante, avventurante, allora qui possiamo, non è che poi mi chiama il padre, di come si chiama, Nell Tiger Free, di Too Old, Too Young, perché ho fatto l'amore con una minorenne, come succede a Mais Teller, no, 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 21 anni, signor Itan, signora Uma, posso bombarla? Vostra figlia, è permesso? Sì, sì, fai pure, fai pure, allora facciamo tutto qui, ok, detto ciò, finisco con questa, appunto, Maya, 21 anni, compiuti, pochissimi giorni fa, l'8 luglio, adesso, oggi, che giorno è? 14, 14, ieri il 13, si dice che il 13 sia un giorno fortunato, non è vero perché è sinistra, appunto, ecco, di mio, conosco molte ragazze, perfino più belle qui, divento come Frankie, che è Frankie Clittisto di Million Dollar Baby, eh, che dice, guardate, no, guarda, dice a Hilary Swank, che ci sono uomini e donne, a proposito di uomini e donne, a me dicono, ma tu sei, ma l'avete visto che questo è pazzo, c'è un tipo che mi caluni, ma avete visto, questo non vede amici, io non vedo amici, neanche uomini e donne, non ascolto neanche quella cretina di Alessandra Morose, 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 ma è chiaro, è chiaro? Io sono un tipo un po' particolare, sono un poeta e sono il genius, vabbè, scusi, eh, allora, sono il genius o non sono il genius? Se sono il genius sono diverso da lei, che sicuramente lei è un ritardatus, scusi, ecco, eh, Clint Eastwood dice, certa gente non avrà mai la possibilità che hai tu, e poi vabbè, conosco molte ragazze perfino più belle di lei di Maya, ma che nella vita non avranno mai la possibilità di recitare una serie televisiva di successo, forse perché sono meno talentuose, forse perché non sono raccomandate, la seconda che hai detto, ora, queste ventenni che un tempo furono fighissime, dopo mille delusioni, hanno 40 anni, hanno trovato come lavoro soltanto quello delle gelataie, è chiaro? Ecco, ci sono quelle che poi a 40 anni, nonostante tutte le delusioni, le botte che hanno preso, vogliono farcela lo stesso, più che altro, sapete cosa fanno? Si danno alle leccate, alle leccate, ma non del gelato. Dunque, quello che voglio dire è questo, amici, se non mi siete amici, fa lo stesso, il mondo è popolato da miliardi di persone, eh sì, ecco, se uno viene emarginato per pregiudizi e stigmatizzazioni stupide, da dei falsi amici, altri amici può farsene lo stesso, però deve affrettarsi, perché può anche aver sofferto del doc, e io ho sofferto del doc, no, 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 io dico la verità, ho sofferto del doc, è chiaro? è il disturbo ossessivo compulsivo, beh sì, sì, io è geniale ancora come Christopher Lloyd, e doc, scusi, di ritorno al futuro, chi ha visto Stranger Things, capirà tutte queste mie citazioni, queste, queste mie, diciamo, sì, so che credete che vi racconti balle, e vi chiedete, ma come hai fatto? io sono io, ma non sono David Carradine di Kelby, forse lo siete voi che siete degli stronzi, io sono io, e c'è Uma Thurman, io sono io, ad esempio ho incontrato un vero amico, si chiama Massimiliano Sperduti, lui mi considero un genio, ha voluto appurare in attesa del nostro meeting, a Firenze del Tronto Luleo, se sono, se sia, sia, se sia, quella è, quella che si chiama Cecilia, Cecilia, è buona Cecilia, a parte di un buon lavoro che sia, però, facciamocela, così sia, se sono, se sia capace di recitare un testo come Dio comanda, ha caricato il video in cui recito un suo erotico racconto sovranaturale sul suo canale YouTube, potete vedere anche il mio, non in elenco, sul mio sito, Genus Pop, scusi, secondo voi, può andare bene, dico la mia recitazione, può andare bene, ci siamo, perdonate solo per qualche rumore di fondo, ma ci sta, ci sta, se non ci sta, la mandiamo a fa culo e ne troviamo un altro. Ma questa non è affatto una cosa dell'importante, il punto è che questa ragazza che mi piace, è una con la quale io nemmeno parlavo a scuola, e non so neanche perché, forse perché Tommy Age mi avrebbe preso in giro, perché non sarei diventato il re del ballo. È stupido, insomma, daste una ragione, ci si preoccupa della stupidaggia, a pensarci bene, sarei dovuto sempre uscire con lei, prima di tutto è simpatica, è spirituosa, mi sembra che quest'estate l'abbia reso, come non ridevo più, da tanto, tanto tempo, e poi è in gamba, molto più in gamba di me, sa decodificare i codici segreti del suo, ed è la persona più sincera che io abbia mai conosciuto. Roby? Sì, la faccia da culo c'è tutta, no? Che faccia da culo? Che faccia da culo? Che faccia da culo? il genius, il genius pop, e forse l'uomo più grande di tutti i tempi, e come dico io, di tutti i tempi, è così. che faccia da culo? che faccia da culo? che faccia da culo? che faccia da culo?